franco genzale presenta la siringa di mila martinetti che confusione sarà perché ti amo la ricordate la canzone del ritmo allegro e coinvolgente dei ricchi e poveri bisognerebbe farne l'inno unitario della sinistra pd di avellino interpretata da antonio gengaro di articolo 1 sceneggiato da francesco dodisco e di sinistra italiana con la punta di diamante irpina giancarlo giordano tutti e tre sognano per il comune di avellino una riproposizione dell'ulivo con l'aggiunta dell'udc di demita ancora profumata dei cinque anni trascorsi nel centrodestra più che ripiantare l'ulivo insomma i magnifici tre sembrano intenti ad annaffiare crisantemi per aver guardato il mondo incontrauto